Bene, insomma, continuiamo sempre con il ciclo dei Fanes e prima o poi arriveremo alla fine di questo primo ciclo sulle leggende delle Dolomiti del Trentino. Eravamo rimasti all'incontro fra Lidsanel, diventato ora Kafusk, cioè testa fosca, scura, e Perlui, Perlui che è uno dei guerrieri superstiti di Reo Dolges. Dunque, ero rimasto a questo brano. Tra lui, infatti, era di modi gentili, amante più di falce che di spada, e ben dentro nella conoscenza delle cose che crescono sopra la terra e dei pacifici animali della montagna. Cioè, qui viene mostrato il contrasto, l'opposizione, potremmo dire, fra Lidsanel, Kafusk e Terlui, no? Che entrambi superstiti del regno di Reo Dolges, solo che mentre Lidsanel ha scelto la strada, ancora una volta, della violenza, fino appunto di degenerare nella follia, no? Di mettersi addirittura contro gli elementi stessi della natura, gli animali e le piante. Terlui, invece, di tutt'altro animo, no? Anziché macerarsi, consumarsi dentro il ressentimento, l'odio, il rancore, il senso di colpa, tutti i sentimenti più negativi che possono albergare in un uomo, ha deciso di ricreare una comunità fondata sulla pace, no? Sull'accordo con la natura, con le piante e con gli animali, no? E cercare appunto di vivere in pace dopo aver tanto combattuto. Anche se poi è Lidsanel che salva Terlui dai nemici trusani, che ancora una volta sono arrivati a rompere le scatole. Dunque, così, con la sua comunità di pastori, Terlui viveva bene e scambiava le pecore e la lana con gli abitanti della valle. Proprio di ritorno da una di queste spedizioni, ai mercati della valle, erano stati sorpresi dai trusani. Cafusche li vide e decise di aiutarli. Dunque, levata allora la gloriosa spada Sabia de Feck, la spada di fuoco tutta placcata d'oro, gli rendò con tutta la sua forza come aveva credato agli alberi. Avanti, sono qui, seguitemi i miei prodi, ammazziamoli tutti. A questo grido molti degli assalitori fuggirono e gli uomini, con i bastoni ripreso coraggio, respinsero il nemico al di là del col de me. Allora il loro capo si avvicinò a Cafusche e gli disse ridendo, «Sei un valente guerriero, ma i tuoi uomini in verità sono lenti a seguirti». Cafusche rispose, «Dove sono io? Sono tutti i miei». E alzolta la spada in segno di regalità, e la gloriosa spada brillò nella sua punta d'oro. Fu allora che tra lui gli si gettò i piedi perché aveva riconosciuto in lui il figlio adottivo del suo re che imbracciava la gloriosa spada, sabbia de fecche. Tu sei l'Itsanel, l'Itsanel che il grande Odolghia si è invocato prima di morire, l'Itsanel che si è fatto bandito per orgoglio. Come hai potuto, l'Itsanel, dimenticare la tua regalità e il tuo popolo? Ora che ti ho trovato, resterai con me e sarai di nuovo re». Ma il popolo di Tarlui non si fidava di quello straniero. E Tarlui disse, «Abiate fiducia in quest'uomo. Anche se è stato bandito, diverrà pastore perché così è scritto». Parle allora che l'Itsanel avesse ricevuto un colpo mortale e abbassò il capo fosco e pianse. Poi si lasciò cadere a terra e un'oscura tenebra piombò su di lui. Tarlui lo raccolse e lo portò nelle terre segrete e lo accudì con l'amore di un padre. Quando l'Itsanel uscì dalle tenebre era giunto un'altra primavera e i campi della gente di Tarlui cominciarono a rinvertire e la natura sorrideva. Così fra i pastori visse l'Itsanel fino al successivo autunno e si riprendeva nelle forze e nella memoria. Canta infatti l'antica runa, l'Itsanel da te da reti sei fatto bandito e poi pastore di pecore. Cosa ancora riserverà il tuo destino? Fu in quel momento che l'Itsanel chiesa a Tarlui di nascondere il suo nome e tenerlo segreto a tutti. Così si chiamò Fedor, da feda, che nella lingua antica significa pecora. Poi bisognerebbe magari andare a guardare gli etimi celtici come si dice pecora in celtico magari chissà in etrusco. Comunque è interessante notare che l'Itsanel adesso che avrebbe la possibilità di ritornare re è sempre chiamato re probabilmente per il senso di colpa che prova per tutto quello che è combinato accetta di diventare un semplice pastore diventa il re pastore assieme a un altro re pastore per lui. Adesso non mi ricordo bene la vicenda di Turin Turamba però mi sembrava che a un certo punto anche lui dopo aver fatto il predone anche Turin Turamba a un certo punto trovava dei superstiti della sua gente perché anche lui faceva parte di una popolazione perseguitata e dispersa e a un certo punto come dire, si cerca di redimersi. Poi quando andremo a analizzare nel Silmarillion ripresi i cicli di Sotolkin vedremo anche in analisi tutta la vicenda di Turin Turamba e confronteremo tutte le somiglianze fra le due storie e i due personaggi. Allora, capitolo 11 Mara, la sorella di Litsanel che per il momento se n'era rimasta cioè per la parte della vicenda apparentemente dimenticata è rimasta sull'isola degli uomini monchi intanto nell'isola lontana l'isola delle aquile qui viene chiamata isola delle aquile perché ricordatevi sempre che il re aquila è insieme re degli uomini monchi sono la stessa persona che cambia aspetto e forma a seconda delle situazioni. La principessa bianca come la luna languiva fra la desperazione e la follia. Lei aveva svegliato il principe aquila per mandarlo alla morte lei aveva consegnato il suo figlio perché diventasse re dei fanes molti e molti anni erano passati. L'aquila che le aveva portato notizie di Litsanel guerriero le aveva anche narrato di Litsanel brigante la principessa gridava al mare se mio figlio si nasconde affamato nei boschi se insegue come un lupo le sue preide o se il suo corpo giace senza sepoltura voglio andare a cercarlo. Così andrò da mare e le disse resta nell'isola degli uomini monchi io andrò a cercare il figlio del grande principe aquila l'erede dei fanes. Molto dolore ne venne alla giovane mare che niente conosceva del mondo al di là della limidona il grande mare ma con animo saldo disse se la moglie del grande principe aquila può partire seguendo il richiamo del sangue lo stesso può fare la figlia ed erede dei fanes. Lutto mi hai chiamata e non intendo piangere da sola il padre, il fratello e la madre dove tu andrai andrò anch'io figlia di guerrieri io non temo la sorte e la paura. insomma sono anch'io la steppe dei fanes cioè sono mecca sono una codarda sono un tipo tosto anch'io come le altre donne della nostra famiglia. Infatti la giovane mare è una principessa forte e coraggiosa alta e bruna come la madre con gli occhi grigi delle aquile e di l'essanel. Dunque sì cioè caratteristica della razza alpina cosiddetta razza alpina in realtà le razze non esistono diciamo del fenotipo alpino non albino alpino no è quello di cioè almeno quando ho dato così una un'analisi sull'enciclopedia ancora tanti anni fa sui vari fenotipi razziali cosiddetti razziali il fenotipo alpino è appunto di colorito pallido capelli scuri e occhi chiari no cioè varianti dal dal nero al creggio generalmente cioè più chiari caratteristiche che poi si ritrovano anche fra le popolazioni basche e le antiche popolazioni celtiche delle isole britanniche probabilmente perché c'è di fatto un legame genetico per esempio anche l'elemento RH negativo nel sangue anche credo che anche fra le popolazioni alpine non sia raro beh per esempio mia sorella aveva fatto RH negativo nel sangue e gli occhi chiari come i miei anche più dei miei e i capelli scuri di bassa statura però cioè questo fenotipo era di bassa statura invece lei viene definita alta come invece il fenotipo atriatico che tende ad essere di statura alta dunque e poi da notare che questo fenotipo lo si ritrova anche in molti personaggi di Tolkien cioè soprattutto gli elfi sono di alta statura con gli occhi grigi e i capelli neri e anche diverse popolazioni per esempio i numeroni hanno sempre queste caratteristiche a volte sono biondi con gli occhi azzurri no? Tolkien ripete un certo fenotipo che è quello tipico delle popolazioni bretanniche e anche delle popolazioni alpine basche via dicendo no? perché in realtà appunto lui si ispirava a queste determinate tradizioni mitologiche allora con gli occhi grigi delle aquile di l'itsanel principessa bianca come la luna lesse negli occhi della figlia la risolutezza e la forza dei fanes e la condusse con sé i saggi dell'isola delle aquile non volevano lasciarle partire certo questi fanes non mancano di coraggio dicevano ma sicuramente sono deboli di senno sono un po' svalvolati l'aquila dagli artigli d'oro ha abbandonato l'isola il principe aquila ha perso la memoria l'itsanel ha dimenticato il ritorno ora sono tutti condannati ma la principessa non sentiva ragioni e così armò una barca e lei e Mara andarono al di là del mare fino alle sette paludi al confine del mondo le sette paludi uno dice quali possono essere ma potrebbe essere la laguna di Venezia cioè dall'isola della Almazia hanno raggiunto la zona della laguna di Venezia e da lì che già si è in vista delle dolomiti perché dalla laguna di Venezia si vedono le dolomiti le montagne ho sentito anche dalle dolomiti si può vedere la laguna di Venezia e da lì appunto avrebbero raggiunto la zona dolomitica dunque di là gli uomini bonchi organizzarono i cavalli e con un piccolo seguito le condussero verso la terra dei fassani dove avevano sentito che si aggirava l'Itsanel unito ai pastori di Tarlui camminarono così per molti giorni e la sera del settimo giorno arrivarono accanto a un colle calvo che si chiamava Colle della Roda lì si accamparono in attisa del nuovo giorno e qui sono costretto a chiudere e ormai ci avviciniamo alla fine arrivederci